I principi sono una cosa bella ma bisogna saperli calare nella realtà e bisogna stare attenti a che inseguendo un sogno non si realizzi un incubo. La Corte Costituzionale ha stabilito essere illegittimo costituzionalmente qualsiasi legge stabilisca la trasmissibilità automatica del cognome paterno. Attenzione, già la legge oggi prevede in Italia la possibilità di dare il cognome materno o di accoppiare i due cognomi dei genitori, ma stabilisce anche la legge che dove questo non accada, dove non ci sia una manifestazione esplicita in tal senso dei genitori, automaticamente si dà il cognome del padre. E la Corte Costituzionale dice che è incostituzionale. Perché? Perché c'è un principio di assoluta uguaglianza che deve essere rispettato. Molto bello, molto nobile, l'uguaglianza di tutti noi davanti alla legge, nei diritti, anche nei doveri, solitamente lo si dimentica. Comunque è una cosa già presente nella Costituzione dal 1 gennaio del 1948. Il problema qual è? È che però è necessario comunque fare una legge, perché da solo questo principio rischia di creare un caos. Se attribuisco al figlio i due cognomi di mamma e papà, e questo figlio crescendo si unirà e genererà a sua volta dei figli con un'altra persona che ha due cognomi, non essendoci da nessuna parte una regola di decadenza di uno dei due cognomi, ne risulterà che il nipote avrà quattro cognomi. Suo figlio potrebbe averne otto, sedici, trentadue, sessantaquattro, è un po' scomodo, comporta una perdita di tempo un po' esagerata per presentarsi, oltre naturalmente che i biglietti da visita saranno dei libretti a quel punto. Quindi bisognerà trovare una regola. È vero che la trasmissibilità automatica del padre risponde a un criterio patriarcale, ma non è che dal punto di vista del principio cambia nulla se anziché patriarcale diventa matriarcale. Bisogna stare attenti a non ragionare tutti come se fossimo tutti schiatte nobiliari per cui bisogna tenere il nome del blasone, tenuto peraltro presente che i titoli nobiliari sono stati abrogati dalla Costituzione nelle norme transitorie pinali, quindi questo problema ce lo siamo risolto. Il problema è trovare una linea che tracci un'identità familiare da qualche parte. E non basta, c'è neanche un altro problema. Se i genitori al momento della nascita di un figlio possono decidere liberamente di dare il cognome del padre o della madre o di accoppiare, rimettiamo che decidano di dare il cognome della madre. Benissimo, congratulazioni felici. Al secondo figlio che fanno? Sono tenuti a ripetere la scelta che hanno fatto col primo figlio? O possono cambiare opinione e dare il cognome del padre? Cioè, della serie un figlio si chiama col mio cognome e un altro figlio si chiama col tuo cognome. Non si è scritto da nessuna parte, la legge non regola questo e quindi questa ipotesi sarebbe possibile. Solo che in questo caso noi avremmo due fratelli che hanno due cognomi diversi. E non è una cosa particolarmente semplice da poter gestire. Insomma, bisogna tenere presente che l'attribuzione del cognome, quindi la trasmissione della identità, è anche uno strumento di ordine collettivo, di ordine identitario. Possiamo scegliere di fare in modi diversi, però non serve a molto essere ipocriti, perché per esempio, faccio un esempio, è un'ipotesi, prima o poi la legge dovrà occuparsi. Se io stabilisco che i bambini hanno il cognome del padre, ma anche il cognome della madre, e poi stabilisco che dopo, per evitare l'effetto 2, 4, 8, 16, 32 e così via, decade un cognome, e stabilisco che questa decadenza automatica non è a scelta della persona, cioè scegliti quale cognome vuoi, ma per esempio decade il cognome della madre, ebbè, se non è zuppa e pambagnato, ho solo spostato il principio di automatismo del cognome del padre di una generazione. Alla generazione successiva sopravvive solamente quello del padre, cioè non è che abbia cambiato molto la realtà delle cose. Quindi, è vero, il Parlamento è in ritardo su questo perché non ha saputo legiferare, ma è necessario che lo faccia perché da sola la sentenza della Corte Costituzionale rischia di innescare un caos dove realizza finalmente quell'ideale che era una volta in un libro di Cooper sulla fine della famiglia, fare scoppiare e far cancellare le famiglie. Né del resto riusciremo a fare una cosa più ordinata e razionale se facendo la metà dei figli attribuiremo loro il doppio dei cognomi.